Quando la cultura entra in edicola, ed è sicuramente una cosa bellissima portare cultura, portare libri all'interno delle edicole che non sono soltanto il veicolo dei nostri amati quotidiani, per chi ha la passione di leggere, proprio con la cultura in edicola. Ma noi ci fermiamo in Via Verdi perché lunedì pomeriggio alle 17.30 c'è un appuntamento importante, l'appuntamento è con questo signore qui, Giancarlo Piacci. Il titolo del libro è I Santi d'Argento, è un autore partenopeo che racconta, parla, spiega, svela questo suo volume che è un vero e proprio noir. Questo romanzo mi ha tenuto incollato come non succedeva da un sacco di tempo perché dentro c'è la Napoli di oggi in una narrazione che non si rassegna alle semplificazioni a scriverlo, è zero calcare. E allora lunedì 17.30, se volete ci sono ovviamente anch'io, ci vediamo con l'autore, eccolo qui Giancarlo Piacci, l'edicola Via Verdi per questo evento, per questo momento che non vuole essere soltanto un attimo promozionale, ma un messaggio lanciato anche alla città perché nelle edicole la cultura c'è e ce n'è davvero tanta. Vi aspettiamo lunedì con questo appuntamento all'edicola in Via Verdi.